Ciao a tutti ragazzi sono Andrea e bentornati in un nuovo video Come avete letto dal titolo oggi è tornata la serie in cui vado a comprare gli oggetti più economici di vari brand Vi volevo comunicare che questa domenica sarò a Mantua al negozio LS29 e registrerò l'ottavo speciale per i 100.000 iscritti È un nuovo format in cui potrete partecipare tutti quindi vi aspetto questa domenica dalle 15.30 a Mantua da LS29 Nell'episodio di oggi sono andato da Luisa via Roma e ora vi lascio le clip Ciao ragazzi siamo qua da Luisa via Roma e ora andrò a comprare gli oggetti più economici di Off-White che è il brand che ho scelto io Almenzi Tè ciullo? Gucci Dammi un brand Gucci Siamo su Off-White Mettiamo la ricerca in base al prezzo Prezzo basso Allora io direi questa qua Vai Aggiungiamola Vai Sì Perfetto Poi abbiamo detto Gucci Ok Prezzo basso Perfetto Vai Grazie Grazie a noi Ciao Ed ecco qua la busta con gli acquisti Ho speso intorno ai 300 euro Ora vedrete qua lo scontrino Ci tengo a precisare che non ho preso letteralmente i più economici Perché sennò sarebbero stati tre paie di calzini Inoltre uno di questi oggetti lo potrà vincere uno di voi Per vincere è semplicissimo Basta iscriversi al mio canale YouTube tramite il link in descrizione Il vincitore verrà estratto giovedì prossimo in diretta sul mio profilo Instagram Chiocciola Andrea Rati E successivamente verrà scritto qua sotto nella sezione commenti E il commento verrà messo in primo piano Preso il nostro coltello Andiamo ad aprire la busta Come avete letto dal titolo i brand che ho acquistato sono Gucci, Palm Angels e Off-White Qua abbiamo lo scontrino Qua abbiamo il nostro pezzo di Gucci Qua quello di Off-White che non vi spoilerò perché si vede E qua anche quello di Palm Angels che anche questo si vede Partiamo dal pezzo di Palm Angels che sono questi calzini Che sono probabilmente il paio di calzini più iconico di Palm Angels E sono questi qua con questa fiamma gialla e rossa Sono in 90% cotone, 5% la stan e 5% poliammide Hanno un prezzo di 50€ e a parere mia sono molto belli Siamo ora al pezzo di Gucci Abbiamo la classica scatola di Gucci Qua abbiamo le classiche istruzioni per la cura del prodotto Qua la solita carta Qua abbiamo due dust bag per contenere il nostro prodotto ad esempio quando viaggiamo Ed ecco il nostro oggetto Sono queste slides di Gucci Colorazione nera con le classiche tre strisce di color rosso e verde Queste hanno un prezzo di circa 180€ 195€ per la precisione Sono totalmente in gomma Hanno sotto sagomato Infatti questo è il nuovo modello Il primo era completamente piatto Questo era il pezzo più economico dopo i calzini Legati alle ciabatte abbiamo questi due cartellini identificativi del prodotto Che hanno appunto questo codice Che sulla destra è 5258H8402 E invece sulla sinistra è 5259H8402 sinistra Quindi semplicemente un cartellino identificativo A livello estetico sono molto semplici In particolare questo dettaglio della suola sagomata Che a me personalmente piace molto di più rispetto alla slides precedente Dove era completamente piatto Che a me personalmente piace molto di più rispetto all'interno Passiamo ora al prodotto di Off-White Che uno di voi potrà vincere gratuitamente Che è la mascherina di Off-White Con questo logo ovale frontale con scritto all'interno Off-White È in 100% cotone Questo pezzo ha un prezzo di 70€ Per vincere è semplicissimo Basta iscriversi al mio canale YouTube Tramite il link in descrizione E giovedì prossimo verrà estratto in diretta sul mio profilo Instagram Piocciola Andrerati Che successivamente verrà scritto qua sotto nella sezione dei commenti E il commento verrà messo in primo piano Ragazzi il video è finito qui Spero vi sia piaciuto Sul mio Instagram Chiocciola Andrerati Attivo il giveaway gratuito dell'anno E un fortunato di voi potrà vincere gratuitamente a casa sua Le Air Jordan 1 per Travis Scott Scarpa che probabilmente sarà la miglior sneaker del 2019 Davvero eccezionale Piene di dettagli Non ancora rilasciata in Italia Quindi in bocca al lupo a tutti Buona fortuna Se volete partecipare Andate sul mio profilo Instagram Chiocciola Andrerati Io spero il video vi sia piaciuto Commentate Mette mi piace Condividete E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao